Ciao a tutti da Asakusa di Tokyo. Stiamo passando nel terzo weekend dopo che hanno terminato lo stato d'emergenza. Oggi mi trovo ad Asakusa. Faccio una passeggiata nel quartiere dove ci sono dei negozi degli strumenti di cucina. Finalmente dei ristoratori possono offrire l'alcol. E quindi mi pare che ci sia un po' di movimento. Anche in questa zona sono venuti un po' di persone a comprare delle cose che gli occorrono. Questo negozio vende dei famosi campioni fatti di cera. Ci sono dei piatti, anche delle frutte, i prodotti. Tutti sono fatti di cera e loro li mettono nei vettorini davanti ai loro ristoranti. Così dei clienti possono capire subito che cosa offrono a questi ristoranti. Questo negozio offre solo degli strumenti per fare i dolci. c'è una padella per preparare kaiyaki. Adesso mi sposto all'immagro quartiere che si chiama Asakusa Roku. Roku in giapponese vuol dire sesto quartiere, ma siccome lo sono un po' assomiglia a quella musica rock, e hanno proprio associato come rock. invece questo è un quartiere dove ci sono tanti piccoli bar e ristorantini, osterie e la gente mi pare che sia molto contenta a bere. Sono arrivata nel quartiere di Tempio Sensoji. E' un quartiere che si chiama, ma siccome lo solleva, e' un quartiere che si chiama. Siamo arrivata nel quartiere, Grazie a tutti.